Buonasera a tutti, sicuramente la giornata di oggi fino a questo momento ci conferma un termine che abbiamo utilizzato in più occasioni quando vedevamo appena uno storno all'orizzonte, ovvero resilienza. Anche oggi i principali mercati europei hanno dimostrato resilienza, tra questi c'è probabilmente per merito del buon andamento del settore lusso il caccarant che potrebbe andare anche a fare nei prossimi seduti nuovi massimi storici e devo dire che anche gli indici americani tutto sommato non stanno accelerando rispetto alla discesa di venerdì che è stata a livello soprattutto di pattern grafico molto importante. Negativa per Standard Report 500, Nasdaq Composite e Nasdaq 100. Prima di iniziare vorrei ringraziare Loriana e Gianfranco, Loriana è l'ennesima donazione che ha fatto a favore del canale YouTube ma anche Gianfranco ne ha già fatto diverse per cui li ringrazio entrambi e vi condivido subito lo schermo per cominciare con il Dow Jones. Vedete che vi ho già disegnato questo box di congestione perché il Dow Jones è oggettivamente inserito in un range compreso tra 38.457 e 38.971 e finché non uscirà da questo range non avremo sicuramente direzionalità. Per quanto riguarda lo Standard Report 500 l'aspetto positivo è che riesce a tenere al momento la rialzista partita dai minimi del 27 di ottobre e però devo dire che qui mi pare più a rischio di ritornare a 5.056 e poi a 5.038 minimo del 22 di febbraio. Nasdaq Composite purtroppo c'è sì una doge in formazione ma la rottura della rialzista partita dai minimi del 26 di ottobre. Primo obiettivo 15.862, 15.869 doppio minimo sporco e poi eventualmente la chiusura del gap lasciato aperto a 15.583 sul massimo del 21 di febbraio. Nasdaq 100 invece sta provando a tenere la rialzista però devo dire che un ritorno a 17.808, 17.804 è ancora possibile e poi c'è la chiusura del gap lasciato aperto a 17.482. Russell 2000 sembra voglia tornarne a parte bassa del range 2059-2048 e poi 2038. Adesso proseguiamo con gli indici europei, vedete che il DAX ha lasciato un gap aperto a 17.795 minimo di venerdì ma poi ha chiuso sui massimi di giornata a 17.750. primo obiettivo 17.619 poi 17.605 chiusura gap lasciato aperto sul massimo del 28 di febbraio ma situazione ancora tutto sommato tranquilla di trading range. Il CAC vi dicevo invece che lo vedo un po' più brillante perché ha chiuso il gap lasciato aperto nella mattinata perché ha aperto il gap down a 7.985 quindi qui c'è la possibilità di andare a rompere i massimi di periodo di 8.048. Diverso il discorso dell'Eurostoxx 50 perché qui il gap è molto più simile a quello lasciato aperto dal DAX a 4.961 primo obiettivo 4.891, 4.089. Eurostoxx banks 128.09 massimo di periodo di venerdì. Oggi apre in gap down ma chiude il gap e va a effettuare una chiusura vicino ai massimi di giornata a 127.58 quindi trading range tra 125.89 e 128.09. Poi veniamo al Futsi Meal Futures. In intraday c'è stata la rottura di 33.220, 33.180 abbiamo fatto un minimo a 33.120 ma poi ha prontamente recuperato tantissimi contratti FIB. Qui dovrebbero esserci già evidenziati anche quelli fuori mercato. Al momento siamo poco sotto i 30.000 scambiati sul mercato, poi magari chiedo se Dario può mandarmi un feedback così magari domani, so che lui è molto attento a questo aspetto, dovrebbero essere compresi quelli fuori mercato già sopra 49.000. Per quanto riguarda il Futsi, scusate l'indice mid cap invece ha lasciato il gap aperto a 46.324 e ritorna pienamente nel trading range compreso tra 45.580 e 46.596. Futsi Stari invece attenzione al rischio rottura di area 46.000 se dovesse capitare 45.358 minimo di 14 dicembre, poi incrocio mediamobili a 100.45.135, mediamobili a 200.45.115. Vediamo i volumi scambiati nella seduta odierna, ve li metto subito qui, poi li chiudiamo. 2.875.000, prima delle aste vi fornisce come al solito puntualmente il dato Renato, 2.303.000.000. Veniamo adesso ai titoli che hanno fatto meglio e a quelli che hanno fatto peggio a livello di Futsi Bibb. Direi di cominciare da quelli che hanno fatto peggio perché c'è il movimento di Telecom che è abbastanza significativo, perché anche oggi è stata molto venduta, non è servito a tanto il comunicato stampa che è uscito questa mattina prima delle 7, perché il titolo è andato a fare nuovo minimo di periodo a 0.20, poi ha chiuso a 0.212. L'unica novità che ho trovato è quella che riguarda, aspettate che ve la prendo, Telecom. No, questa è quella vecchia, quindi sarà Telecom Italia S.P.A. sarà questa. Ok, l'internal leaning uscito alle 15.42, il titolo valeva poco più di 0.21, da parte della di Pietro Labriola che ha comprato questa mattina peraltro alle 10.45, 500.000 azioni a 0,2036. Qui bisogna capire se il supporto di area 0.20 può riuscire a tenere. Poi proseguiamo con Leonardo. Leonardo, se vi ricordate il video di repilogo settimana di sabato, vi avevo già detto che la vedevo a rischio di distribuzione. L'Amaro Bosu Black di oggi sicuramente avvalora questa mia ipotesi, con un primo obiettivo 19.5, 19.435, poi 19.145, eventualmente 18.7. A2A, nonostante la spinning top di oggi è una variazione negativa superiore al 3%, l'ho voluta tenere. C'è la famosa notizia della joint venture con Enel dove dovrà investire per il 90% oltre 1.200.000.000, però siccome non ha perso nemmeno l'1.6315, il minimo del 14 febbraio, credo che possa muoversi nelle prossime sedute tra 1.64.7 e 1.76. Molto male Nexi perché ormai è a tiro del 6.27.2, oggi ha fatto 6.29.2 e poi c'è la chiusura del gap lasciato aperto a 6.054. Ho voluto tenere anche di Asorin, adesso se inizia a stornare dovrò valutare se chiudermi sotto area 92 oppure sotto 90.58, considerato che la media mobile 200 è 90.79. Amplifon al momento candela inside, quella di oggi è stata candela inside, quindi al momento non cambia ancora nulla, direi che probabilmente farà da benchmark per le prossime sedute la candela di venerdì avendo un range tra 32.56 e 34.23. Poi Prismian anche qui, situazione simile a Leonardo, titolo che mi sembra pronto per una fase di correzione, primo obiettivo 45.17, poi 44.01, quindi 43.68. Pirelli, devo dire che non benissimo perché oggi aveva perso in intraday la media mobile a 50, 5.25 e poi ha chiuso a 5.26.4, io la vedo a 5.21, 5.19 e poi 5.13.6. Ferrari, allora Ferrari è ancora in range compreso tra 3.75.4 e 3.89, però vedo più facile un ritorno a 371.5, poi a chiusura gap a 368.9. Banca Mediolanum, anche qui vedo un inizio di possibile correzione con primo target 9.56.6, poi media mobile a 50, 9.48, quindi 9.41. Saipem, ecco qui dobbiamo prestare attenzione perché mi risulta che Capital Fund Management oggi, nel senso riferito al chiusore di venerdì, abbia alzato lo short all'1.01 dallo 0.95, per cui se fossi ancora dettore di Saipem sotto 1.93.85, dunque applicherei uno stop profit per evitare un ritorno a 1.89, 1.88 e 15, poi 1.84 e 3, quindi chiusura gap a 1.83 e mezzo. Poi Azimut, ecco, Azimut è un altro titolo interessante perché anche qui, ed è anche più sostanzioso l'aumento, c'è un aumento della posizione short a parte di Sita dell'Advisor allo 0.76 dallo 0.50, sono sempre riferite alla chiusura di venerdì. Oggi è fatto che andare inside, però non mi stupirebbe rivedere il titolo a 23.59 e poi eventualmente fino a 23.15. Voglio fare ancora Interpump perché è su questo supporto chiave di area 43.30 e finché non lo perde può tornare fino a 45.2, diversamente 42.54, 42.24. Concludo con intesa perché a differenza di Unicredd che vedremo tra poco, non riesce a chiudere il gap lasciato aperto a 3.081, ma chiude comunque su una candela che è una Dragonfly, quindi tornare sui massimi di periodo 3.1095 è assolutamente plausibile e poi ci sarebbe lo spazio fino al massimo della seconda di febbraio del 2018 che è 3.23. Perché dico questo? Perché ho visto, tra l'altro è uscito a borsa chiusa, per cui ovviamente ne beneficerà domani, che alle 17.43 è uscita l'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea del buyback per 1,7 miliardi, quindi mi aspetto una possibile rottura dei massimi di periodo da parte di Intesa. Veniamo ai migliori, dobbiamo parlare di Biper, qui devo ringraziare Guendalina perché non ho fatto a tempo di verificare, però ha scritto tra i commenti, oggi è stata una giornata un po' frenetica di trading e non sono riuscito a rispondere, lo farò probabilmente domani, ha scritto che c'è un buyback fino al 15, immagino fino al 15 di marzo, comunque chiude sui massimi di periodo 3.88.1 e adesso può puntare a 3.94 livello sul mensile, gennaio 2017, poi sul settimanale direi che potrebbe tornare a 4.23.7 massimo della quarta settimana di gennaio del 2016. Molto bene anche Moncler, vi avevo già detto che il lusso è in gran spolvero, oggi ho visto passare negli Highland Max diverse volte massimi di Louis Vuitton, qui abbiamo un 69.14 massimo prima settimana di maggio 2023, 70.2 massimo della terza settimana di novembre 2021. Poi sempre forti Iveco, anche se non ha rotto i massimi storici di venerdì di 12.67, rimane valido un trading range compreso tra 11.78 e 12.67, però potrebbe anche andare a rompere, a rialzo e fare quindi nuovi massimi storici. Vi dicevo della differenza di Unicredit rispetto a Intesa. Unicredit aperto in Gapdown piuttosto sensibile, 30.45, è andato a fare un minimo a 30.2, poi è chiuso a 31.03, quindi trading range da oggi 30.2, 31.68. Stellantis, nuovo massimo storico in Gulfing Bullish, ma anche quasi Marbles White, 24.76, 25.36, sotto 24.71 utilizzerei uno stop profit, però il titolo può ancora proseguire al rialzo. Adesso occupiamoci dei titoli al di fuori del Futsimib, perché devo dire che come tante volte mi sentite dire ho sbagliato questa lettura, ho preso questo stop, devo dire che su Fincantieri credo, perché lo dico da giorni, di meritare questo rialzo, perché comunque è il titolo dove al momento sono più esposto nel mio portafoglio di medio-lungo periodo. Però non ho chiuso alcuna azione oggi, perché comunque ho visto dei volumi davvero importanti, più di 27 milioni, la rottura di 0.54,8 e 0.56,3 e credo che possa arrivare ancora fino a 0.59,5. Da 0.59,5 in poi inizierò a ragionare nell'ottica di stop profit. Poi per la prima volta da diverso tempo ho visto qualche acquisto su Racing Force, quindi significa che un rimbalzo il titolo potrebbe anche riuscire finalmente a centrarlo, 4.34, 4.39, 4.48, eventualmente direi 4.65, considerato che la media mobile a 50 è 4.67 e 2. Poi, altro titolo che purtroppo in questo caso ho venduto, ma che ho avuto fino alla scorsa settimana, è Caltagirone di Tore. Oggi ha rotto al rialzo, io ero entrato proprio benino direi, perché ero entrato proprio su questi minimi qui, a 1.035, purtroppo ho chiuso pensando che facesse fatica a superare la resistenza, invece ha rotto in tromba, come si dice 1.08, nuovo massimo di periodo a 1.14,5, poi ha chiuso a 1.12, discreti anche i volumi, mettiamo un time frame settimanale per vedere che probabilmente adesso i target diventano 1.16, 1.18, eventualmente si potrebbe anche arrivare fino a 1.24,5, 1.26. Poi, non tutte le utili sono mosse nello stesso modo e Acea è stata indubbiamente la più forte. Acea oggi bellissima, Marubozu White, 14.74, 15.73, mettiamo un time frame settimanale e direi che il primo obiettivo è 15.98, poi 16.79, quindi 17.18. Poi, ne avevamo già parlato di rocket sharing la scorsa settimana, titolo che sembra voler ancora proseguire nella sua fase di recupero, primo obiettivo 0.656, poi 0.674, quindi 0.70, massimi di periodo 0.73 e 0.8. Molto interessante il discorso di Eurogroup Lamination, perché anche su Eurogroup Lamination, che è uno dei titoli più shortati della borsa italiana, c'è stato un aumento di posizione short da parte di Actus Ray Partners e l'ha alzato allo 0.95 dallo 0.82, però il titolo sta nuovamente portandosi nella parte alta del range, range compreso tra 3.202 e 3.53.6. Obiettivo in caso di rottura, l'avevamo già visto, 3.74, poi 3.84.6, 3.92.6, 4.03. Al momento mi sembra più possibile una rottura al rialzo. Poi ho visto un bel movimento da parte di Banco Desio, che ha uncinato a rialzo, nuovo massimo di periodo 4.27, chiusura a 4.26, mettiamo subito un mensile e direi, scusate che sono ritornato su Atom. Direi che l'obiettivo di questo movimento potrebbe essere prima 4.56 e 8 e poi 4.99. Juventus ve la faccio vedere, però non ha molto senso perché siamo sotto l'aumento. Il titolo, vedete, ha aperto in gap down, è andato fino a 2.16, ma bisognerebbe vedere più che altro anche i movimenti di diritto, il diritto è stato molto volatile, aperto sui massimi di giornata, i massimi che ha fatto sono stati a 0.40, i minimi addirittura a 0.22, uno poi ha chiuso a 0.34 e mezzo. Io mi riservo di aspettare il termine dell'aumento per esprimere un giudizio sul titolo, perché bisogna vedere comunque se verrà sottoscritto integralmente come credo, perché mi pare che XOR, l'abbiamo visto assieme, si sta impegnando per esercitare il noptato, ma vedere anche magari se qualche retail ha partecipato all'aumento, io però vi ho già detto di essere un po' scettico perché è il terzo aumento di capitale in 4 anni per complessi 900 milioni. Autostrade meridionali, respinta dalla resistenza statica, fatto 15.55, il massimo era 15.50, però il titolo continua a essere fortissimo, io ve la faccio vedere perché mi piace far vedere anche i titoli di cui non ho capito nulla, però l'impostazione tecnica sarebbe di dura per una rottura eventuale al rialzo. Voglio occuparmi anche di Energy, Energy Candle Inside, qui bisogna vedere se riuscirà a tenere l'1.77,5 e ora rimbalzare fino a 2.10, eventualmente potrebbe tornare fino a 1.71, 1.70 e poi a 1.56, minimo del 28 di novembre. Poi proseguiamo. Guardiamo ancora T-nexta, perché è vero che ha fatto Candle Inside, però conferma la tenuta della media mobile a 2.17,61, quindi per le prossime istituzioni potrebbe esserci turning range tra 17.62 e 18.86, considerato che a 18.91 c'è anche la media mobile a 50. Poi vi voglio far vedere un attimo Aton perché, la metto un attimo di qua su Sfera, c'era un teorico addirittura a 7.30 che però non ha validato, quindi addirittura un più 11-13.000 pezzi in acquisto, quindi neanche pochissimi, quindi qui la sensazione è che il titolo voglia rompere area 6.80 e portarsi fino eventualmente, 6.90 ok, però 7.70 potrebbe essere un target per Aton, anche se, ripeto, non ha validato in asta finale. Sorprendente a mio avviso l'Automatica, l'Automatica sembrava voler iniziare una fase di correzione, mentre adesso vuole riportarsi nella parte alta del range, in area massimi storici, 11.59, 11.72.2, poi ancora molto bene Alchemy, direi nuovo massimo di periodo 12.66, chiusura a 12.56, poi primo obiettivo 13.5, 13.72, 13.84, 14.80 mi sembra veramente un po' ambiziosa. Un altro titolo sempre molto forte di periodo è Cembre, Cembre si appresta addirittura a rompere i massimi storici, che poi ha toccato più volte nell'ultimo periodo di 42.40 anche oggi, e credo che possa andare addirittura a rompere. Ariston molto interessante perché sembra voler finalmente rimbalzare con primo obiettivo 6.08, poi area 6.30, cioè poi un 6.37. Anche su Ariston c'è stato Arrow Street Capital che ha tagliato lo short allo 0.47 dallo 0.50. Finalmente sembra voler rimbalzare anche Abitare Inn dopo i minimi piuttosto profondi di periodo di 4.07, primo obiettivo 4.39, poi 4.47 massimo del 22 di febbraio. Poi vedo un rimbalzo di Revo Insurance che invece, se ricordo bene, venerdì era scesa, però qui si sta concretizzando un trading range compreso tra 8.40 e 8.90. Faccio ancora CNH perché so che a molti interessa e devo dire che il titolo, avendo recuperato la media mobile a 100 nella seduta di venerdì dopo averla persa in 3d, media mobile a 100 a 10.55, potrebbe muoversi in trading range tra 10.46 e 11.30. Voglio fare ancora le due Danieli, parto dalla risparmio che oggi fa la miglior chiusura di sempre, ha avuto un range molto ampio la candela di venerdì, scusate, per cui sarà candela benchmark per le prossime sedute 23.75, 24.95. Danieli, ordinaria stesso discorso, fa la miglior chiusura di sempre e anche qui candela inside, e quindi comanda la candela di venerdì 31.9, 34.55. Poi direi che merita ancora un'analisi De Longhi, perché De Longhi comunque oggi aveva perso la media mobile a 50 in intraday 29.51, poi invece va a chiudere a 30.36, per cui può tornare a 30.9, a 31.6 massimo del 26 di gennaio. Poi proseguiamo con, vediamo se c'è qualcosa ancora di interessante, ma direi Datrix, Datrix ha un senso perché oggi ha scambiato 76.500 pezzi, rimbalza dalla media mobile a 50, che è a 1.90, chiude anche sopra quella a 100.193.5, per cui potrebbe muoversi in trading range tra 1.89 e 2.12. Facciamo ancora tre titoli, direi di quelli che hanno avuto una giornata positiva, di Italian Sea Group, qui rimane sempre valido il trading range che vi ho detto, tra 9.76 e 10.82, poi voglio fare ancora Tecnogym, perché sembra volersi riportare veramente in area 9.60, eventualmente la rottura implicherebbe un target veramente molto ambizioso, diciamo che andare sopra 10 sul settimana 10.45, però vediamo, adesso diamo presso area 9.60, poi voglio chiudere con NewLat, perché bisogna, è ancora forse presto capire, se invece di, io avevo detto fino a 5.80 potrebbe arrivare, si inizia a fare una base, qui poco sopra 6, a quel punto un rimbalzo fino alla media mobile a 200, 6.53 e 6, e poi questo massimo del primo di marzo 6.68 potrebbe anche farlo. Adesso andiamo nei peggiori, e dobbiamo partire ovviamente da Somec, praticamente Somec purtroppo ha dato una sorta di profit warning, notizia uscita prima dell'apertura, io non sono riuscito a darvela perché è uscita alle 8.15, quindi gap veramente importante lasciato aperto a 23 sul minimo di venerdì, oggi fa una pessima, Marubazzo Black 22.18 con volumi per Somec molto importanti, e vediamo che ormai siamo molto vicini all'obiettivo del time frame settimanale di seconda e terza settimana di dicembre 2020, ovvero 15.80. Compagnia dei Caraibi, è uscita la notizia che perderà la distribuzione di alcuni marchi tra circa un anno, aprile 2025, nuovo minimo storico a 0.77, mi pare KT & Partners, se non erro, ha tagliato il target addirittura da 4 a 1, quindi questo è un titolo al momento ancora da lasciar stare. Poi, come ho già detto, non ha pace reti dopo la pubblicazione dei dati, perché è solo scesa, può tornare in area 2, poi eventualmente a 1.94, 1.92, media mobile a 200, 1.88 e mezzo. Poi, Elti Italia probabilmente non sono piaciuti, i dati non erano bellissimi, ma è stata un po' eccessiva la reazione, a mio avviso, direi che a questo punto si apre lo spazio per un turning range tra 1.22 e mezzo e 1.48 e mezzo. Molto ben venduta anche Takeoff, Takeoff ha fatto una brutta Marubozu Black e direi che il primo obiettivo è 0.75, poi 0.74, minimo il 27 di novembre. L'Andirenzo, l'Andirenzo male, il nuovo minimo di periodo a 0.36,6, chiusura a 0.37,7, mettiamo addirittura un mensile e qui si va direttamente al minimo di marzo 2020, 0.3 periodico, 3.33, e poi c'è 0.3158, minimo di gennaio 2017. Anche Tesmec è stata addirittura sospesa per scostamento, nuovo minimo di periodo a 0.0981 e qui c'è l'obiettivo ormai direi di 0.0884, minimo di febbraio 2021. Poi, vabbè, ve lo faccio vedere, ma non cambia nulla rispetto all'ordinaria, nuovi minimi, ovviamente di periodo anche per telecomunisparmio, 0.2046, chiusura a 0.2130, anche qui il supporto è area 0.20, il punto di non ritorno direi che 0.1865, minimo dell'ultima settimana di ottobre del 2022. Poi, ho visto ben venduta Tecnoprobe, titolo che si avvicina alla media mobile a 108.35, poi 8.26, 8.03, quindi media mobile a 200, ovvero 7,91. Poi, vediamo anche Mittel, che dopo lo stacco dividendo è in una situazione sicuramente piuttosto critica, oggi ha fatto un minimo di periodo a 1.32, ha chiuso a 1.38, vediamo che su time frame settimanale il titolo potrebbe tornare fino a 1.27, poi a 1.25, minimo della prima settimana di aprile del 2023. Poi, oggi è stata venduta bene anche Edi San Felice, titolo che può tornare in area 2.90, ma poi arrivare anche a 2.80, 2.76. Attenzione a Fiera di Milano, perché sembra veramente arrivato il momento di una correzione, primo obiettivo 2.94, poi 2.87, 2.82 e mezzo, considerate che la media mobile a 50 e 2.91 e 4. Poi, ho visto ben venduta anche Spindox, però ho fatto poi l'ammerino, l'avevo vista anche sospesa, direi che a questo punto 9.65, 11.30 dovrebbe essere il trading range delle prossime sedute, poi SOS Travel oggi ha provato a fare il numero, è andata su quel target che vi avevo indicato ieri a 1.38, in realtà ha fatto addirittura a 1.39 e mezzo, però poi ha chiuso a 1.30, scusate, a 1.24, con minimo intraday 1.23, quindi probabilmente si muoverà in trading range tra 1.21 e 1.39 e mezzo per le prossime sedute. Guardiamo se troviamo qualcosa di interessante, GVS che deve aver fatto anche Asta a ribasso, infatti è chiuso sui minimi di giornata, GVS potrebbe essere arrivata di breve, 6.25, 6.19 e quindi 6.13 minimo del 22 di febbraio, ma questo movimento potrebbe portare il titolo anche a 6.04. Poi Fai Technology, altro titolo che viene da Super Rally, adesso sta iniziando a far più fatica, per il momento ancora trading range tra micro gap a 4.29 e massimo storico di 5.16, però già sotto 4.29 potrebbe iniziare un'accelerazione a ribasso, molto male Portobello che continua a scendere, si allontana anche dal prezzo dell'aumento di capitale a 7, pericolosissima una discesa sotto 6.62 minimo del 7 di febbraio, a quel punto l'obiettivo diventerebbe il minimo del 16 di novembre 6.11, o leggermente arrotondato. Come vi ho detto, luci ombre tra le utilities, per esempio Ascopiave oggi è stata ben venduta, ma viene dalla potentissima Engulfing Bullish di giovedì, adesso sembra voler di nuovo ritracciare, magari tornare a 2.35,5, poi 2.30, 2.29, ecco bisogna fare un po' attenzione. Teselis oggi è stata venduta abbastanza bene, ha provato a rompere il supporto di 0.53,1, poi ha chiuso a 0.53,6, primo obiettivo 0.507, poi media mobile a 100.048,9. quindi Osai, Osai vi avevo già detto che la vedevo ormai su questo supporto di 1.31 e confermo poi c'è l'1.25 minimo del 17 di gennaio, sempre molto debole di periodo Seri, Seri Industrial, oggi ha fatto Candelinside, aveva fatto l'ammerino venerdì 2.39,5, chiusura 2.53,5, però il rischio è che possa, mettiamo in stile non si vede bene, un settimanale forse riusciamo a ricavare un po' in maniera più nitida i livelli, direi che se perde anche 2.37, può andare diretta a 1.98,5 che è il minimo della prima settimana di aprile del 2020. Un altro titolo, prima che me lo dimentichi lo faccio subito, Schucker è in questa situazione di difficoltà, nonostante poi oggi abbia fatto l'ammer, dopo un minimo di 2.60,5 ha chiuso a 2.78, attenzione che qui c'è il livello sul settimanale veramente importante, vedete 2.75,5, 2.77, 2.76,5, questo deve assolutamente tenere come livello settimanale. Poi diamo uno sguardo anche a secco, che sembra voglia continuare la sua fase di correzione, con un primo obiettivo a 3.09, poi 3.0,22, sempre interessante guardare Redelphi, che però adesso si sta riportando di nuovo nella parte bassa del range, quindi direi 6.38, 6.22, sopra 7.36, diamo uno sguardo anche ad Altea, Altea direi che può fare 8.62 di massimo del range, sotto potrebbe ritornare a 7.80, ha un micro gap da chiudere a 7.70. Vediamo anche Trend Device, che ha questo problema di non riuscire a fare movimenti in sequenza, Spinning Top massimo 0.31,8, chiusura 0.29,1, chiude comunque sopra la media mobile a 200, 0.28,55, per le prossime sedute un trading range compreso tra 0.27,6 e 0.33. Poi voglio fare ancora Reply, perché Reply sinceramente rischia comunque di accelerare a ribasso se dovesse perdere 121.6, con primo obiettivo 118.8, 118.4 e poi 118. Altro titolo che non è impostato bene è Elen, Elen direi che può andare sui minimi di periodo di 8.20, parliamo di seconda metà di ottobre dello scorso anno, poi il pericolo è di rivederla addirittura potenzialmente a 7.32, minimo della seconda metà di marzo del 2021. Poi sembra che voglia prendere direzionalità Aquafil, Aquafil oggi fa una quasi Marubozo Black, direi che il primo obiettivo è 3.05, la media mobile a 103,014, poi 2.95,5 minimo del 14 dicembre. Ecco, io l'ho chiusa in forte perdita, però il limite non dà ancora segnali di voler rimbalzare, anche oggi nuovo minimo storico a 4.36, chiusura a 4.38. Vediamo Dovelu, anche Dovelu è lì che lotta sui minimi storici che sono a 1.85,6, accomunate da una dinamica veramente molto debole. Guardiamo anche Elika, Elika sembra voglia tornare a testare il supporto, c'è vicinissima 1.94, sotto si va direttamente a 1.83. Olidata, Olidata, Olidata è, c'è ancora l'ultimo baluardo che è questo, 0.58 e mezzo ho già fatto, 0.59 sotto si va addirittura a chiudere il gap a 0.52 e mezzo. Poi guardiamo Antares, Antares Vision, siamo in un trading range piuttosto stretto tra 2.43 e 2.64 e mezzo, finché non perde 2.43 non mi preoccuperei, diversamente può tornare a 2.26, 2.20. Poi questa mattina avevo visto delle vendite su Digital Value, infatti ha fatto il minimo a 55.3, poi ha chiuso a 56, però il rischio è di rivedere il titolo a 52.9. Poi facciamo ancora due titoli, ovvero Zignago, perché Zignago potrebbe anche perdere il livello importante, direi il primo è 12.82, poi si va a 12.54, ma potrebbe anche rimanere in trading range con i massimi a 13.46, ma bisogna fare veramente molta attenzione. E poi voglio concludere con Mutio Online, per anche Mutio Online ha fatto un'astina a ribasso, infatti ha chiuso sui minimi di giornata, e sembra voglia tornare a 32.3, poi a 31.55. Ma magari, guardate, ho girato pagina, ci sono ancora alcuni titoli di cui vorrei parlare, che sono Avio, perché mi sembra in una fase di correzione, con un primo obiettivo a 8.71, e poi a 8.64, considerato che la media mobile a 200 è 8.56, poi Safilo, perché Safilo comunque è su area di massimi, e in caso di rottura di 1.13.5 potrebbe tornare a 1.11.4, 1.095, ma anche eventualmente 1.066, 1.041, poi Bianini, stamattina mi aveva fatto ben sperare, anche se io non ho ancora preso posizione, perché aveva aperto in gap up, poi ha chiuso a 0.79 e mezzo, dopo minimo a 0.76 e mezzo, qui non deve perdere 0.73 e mezzo. Poi voglio farne ancora due, perché poi diventano veramente troppi, e sono Sondrio, che vedete che all'interno dello stesso settore ci sono delle divergenze proprio di andamento, Sondrio sembra voler tornare sulla media mobile a 50, 6.602, poi 6.55 e mezzo, 6.44, 6.43 e mezzo. Poi direi con Brembo, Brembo rimbalza dalla media mobile a 111, ma vedo il titolo che può tornare a 10.8, 10.68, poi 10.62. Per questa sera ho concluso, auguro a tutti una buona serata, e noi ci vediamo domattina, prima dell'apertura del mercato diurno.